Matteo Renzi, il fatto quotidiano, uno scoop, un terribile scoop cari amici, un terribile scoop, scoop del fatto quotidiano di Marco Travaglio, un articolo tremendo relativo al boi di Fiorenza, a Matteo Renzi. In questo articolo tremendo, pubblicato dal fatto quotidiano, si dice che il boi di Fiorenza, alias Matteo Renzi, aveva creato sul web degli account falsi. Account falsi, c'è scritto qua, la titolata creava account falsi e pagava 260.000 dollari per un software israeliano in grado di influenzare il voto. Gli israeliani cari amici, non si scherza con gli israeliani perché gli israeliani stanno dentro lo Stato di Israele. Lo Stato di Israele è nato nel 1948 e a questo mondo il primo a riconoscere l'esistenza dello Stato di Israele fu Stalin, l'URSS, l'URSS di Stalin. Poi vennero gli altri riconoscimenti. Dentro lo Stato di Israele ci stanno 7-8 milioni di ebrei e altri 7-8 milioni di ebrei sono sparpagliati in tutto il mondo. In tutto il mondo ci sono 15-16 milioni di ebrei, la metà dentro lo Stato di Israele e l'altra metà sparpagliati per tutto il mondo. 15-16 milioni di ebrei e noi che non siamo ebrei siamo 7-8-9 miliardi, capito? Gli ebrei a questo mondo sono soltanto 15-16 milioni. E come mai Matteo Renzi si è rivolto allo Stato di Israele per avere un software che costa 260.000 dollari? C'è da chiedersi questo, ma perché noi italiani non siamo capaci di fare un software in grado di fare ciò che voleva fare Matteo Renzi? Insomma qua c'è scritto così, che Matteo Renzi creava account falsi. Ah ma io non ci credo, fatto quotidiano, non ci credo perché il boi di Fiorenza è stato tante cose il boi di Fiorenza, è stato tante cose. In primis fu presidente della provincia di Fiorenza, poi fu sindaco di Fiorenza, poi fu per ben due volte segretario del PD, il PD che oggi è di Enrico Letta, il PD. Poi è stato per oltre mille giorni capo del governo a Palazzo Chigi, per oltre mille giorni capo del governo a Palazzo Chigi. E oggi come oggi è senatore della Repubblica Italiana e segretario di Italia Viva. Io non ci credo che il boi di Fiorenza tramite un software israeliano ha creato degli account falsi sul web. No, non ce lo vedo perché da piccolo è stato un boi scout, un boi scout è il boi di Fiorenza. I boi scout non le fanno certe rose, hai capito? Non le fanno. Beh sentite, io ho dato l'informazione perché l'informazione l'ho letta, l'ho letta e tale informazione io ve la metto come link da riassunto del mio video. E ora che vi ho parlato della situazione vi parlo di me stesso, vedete io sono questo signore qua, mi chiamo Serafino Massoni, ho circa 82 anni e opero sulle grandi piattaforme mondiali. Dailymotion e YouTube e su YouTube io ho circa 11 milioni di visualizzazioni al boi di Fiorenza che il boi di Fiorenza ci avesse degli account falsi sul web. Io non ci credo, 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 in ogni caso io Serafino Massoni, ipotesi non fingo, ipotesi non fingo, perché io sono l'autore di questa opera storico-mitologica che descrive come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato e la questione di creare account falsi, account falsi sul web è una questione tipicamente patriarcale, capito, perché solo in patriarcato c'è la proprietà privata. Per cui al Fatto Quotidiano, al boi di Fiorenza e a tutti voi tanti cari saluti dalla Stipe e il Serpente.